Quando entriamo in una scuola o in un'università entriamo in un ecosistema complesso, costituito da layer, da strati, che in realtà non sono scindibili tra loro. Tutti insieme danno forma ad un'esperienza speciale, che è quella dell'apprendimento. Osservando questi ecosistemi possiamo distinguere in particolare tre dimensioni. Quella pedagogica, che porta con sé tutti gli aspetti valoriali, metodologici e organizzativi. Quella tecnologica, visibile, invisibile, tradizionale o avanzata. E quella spaziale, l'ambiente nel quale ci immergiamo, costituito da volumi, colori, simboli, luce, profumi, arredi, strumenti e oggetti. Le politiche educative, infine, costituiscono il quadro più ampio in cui pedagogia, spazio e tecnologie prendono forma e orientano le loro azioni. Per questo motivo la nostra esplorazione dello sviluppo della formazione superiore attraverso l'hybrid thinking e il pensiero ibrido si sviluppa in una serie di quattro MOOC Massive Open Online Courses che ci permetteranno di approfondire specificamente i principali pilastri dello smart learning. Incominciamo dalla dimensione pedagogica. Nel primo MOOC esploreremo lo smart learning design, un metodo di progettazione che aiuta i docenti ad esercitare la massima creatività e ad avere il pieno controllo dell'insieme dell'esperienza didattica, dentro e fuori dall'aula, online e in presenza, in tutte le direzioni e forme che il processo di ibridazione può assumere. Proseguiremo poi con la tecnologia, esplorando la sistematizzazione del contributo che il movimento MOOC, in quanto sintesi dei processi di digital learning, può dare allo sviluppo dello smart learning. Ci focalizzeremo quindi sugli spazi didattici adatti a supportare lo smart learning, le cosiddette smart classroom. La serie dei MOOC si concluderà con la dimensione delle policy, attraverso l'approfondimento del contributo che le politiche di open education, educazione aperta, possono dare alla sostenibilità dei processi di innovazione didattica, di qualità per tutti. Come dicevamo, in questo primo MOOC ci concentreremo sulla dimensione pedagogica e approfondiremo lo smart learning design. Vedrete come questo si articoli in quattro passi. Parte dalla destrutturazione del processo d'apprendimento in singoli eventi, in cui si articola tutto il processo d'apprendimento stesso. Accompagna poi il docente nella definizione del loro peso reciproco, misurato in tempo dedicato, quanto tempo sarà da dedicare a ciascun evento di apprendimento. E propone quindi la selezione delle modalità di attuazione di ciascun evento, strategie, strumenti, tutto quello che è necessario per descriverla. E infine accompagna la scelta del contesto di attuazione, in aula, online sincrono, online asincrono, di ogni evento di apprendimento e delle connessioni tra loro. Proseguiremo quindi con un corso dedicato alla produzione e progettazione di MOOC. Consideriamo i MOOC un pilastro dello smart learning perché sono utilissimi alleati nella realizzazione di un evento di apprendimento molto importante che tratteremo nello smart learning design, quello che abbiamo definito dal punto di vista dello studente raccolta di contenuti a bassa interattività. È il momento in cui lo studente acquisisce informazioni legate a concetti, metodi, strategie e processi attraverso la fruizione non interattiva di una fonte, per esempio l'ascolto di una lezione frontale, la lettura di un libro, la fruizione di un video di un MOOC come state facendo voi in questo momento. Questo corso sarà dunque dedicato a capire cosa intendiamo quando parliamo di MOOC, come si progettano e come si realizzano esplorando anche le loro diverse tipologie. Ad esempio scopriremo che esistono gli application experiment MOOC che mostrano l'applicazione di un modello e lo sviluppo di un esperimento, i discussion MOOC che presentano differenti visioni di un tema o i touring around MOOC che conducono il partecipante nella visita di un museo o di un sito archeologico, a molti altri che analizzeremo con voi. Nel terzo MOOC, proseguendo nell'esplorazione dei nostri differenti pilastri dello smart learning, troviamo gli spazi a cui dedicheremo il MOOC sulle smart classroom. Ci troviamo pienamente d'accordo con Francesco Zurlo e Daniela Maurer quando ci dicono che dobbiamo partire dalla premessa che non ci sia più uno spazio preciso, circoscritto, connotato, dedicato all'apprendimento, ma che l'apprendimento avvenga in un continuum di spazi che deve essere attraversato senza farsi del male, citando George Perrec, ognuno con proprie caratteristiche per rispondere ad un palinsesto di esigenze sempre più articolato. Il nostro obiettivo dunque è promuovere l'evoluzione da aula a spazio di apprendimento, dove presenza fisica e digitale, strumenti tradizionali e innovativi si integrino per il migliore perseguimento dei risultati d'apprendimento. In particolare vedremo come gli spazi a supporto delle attività di apprendimento possano essere strutturati con arredi flessibili e confortevoli per facilitare attività basate su differenti approcci pedagogici e multidisciplinari. Integrati con tecnologie, da quelle più semplici fino ai sistemi di realtà virtuale ed aumentata che supportino gli studenti nello sviluppo di attività legate a contenuti specifici. Aperti al supporto di aule stese, con studenti partecipanti sia in aula che online. Con l'ultimo MOOC della serie dedicato all'Open Education arriviamo infine al quarto pilastro, le politiche educative, che danno forma e orientano le azioni sui tre fronti precedenti pedagogia, spazi e tecnologie. L'Open Education è un insieme di pratiche, contenuti, politiche e comunità che opportunamente potenziati grazie alle licenze d'uso permettono a chiunque di accedere a materiali e percorsi di apprendimento aperti, gratuiti ed adattabili. Non parliamo solo di contenuti didattici, ma anche di strategie didattiche, strumenti di valutazione, progetti realizzativi di Smart Classroom. Grazie all'Open Education tutti gli attori dei processi formativi possono così riusare lecitamente materiale e contenuti già creati da altri, adattandoli agli obiettivi dei contesti specifici, migliorarne la qualità e poi rimetterli in circolo. Già da questi esempi potete intuire il ruolo che la cultura dell'Open Education potrebbe svolgere nella promozione di Smart Learning in una prospettiva realmente sistemica e sostenibile, soprattutto per l'università pubblica. Pedagogia, tecnologia, spazi e politiche. Ecco dunque le quattro prospettive da cui esploreremo il mondo dell'apprendimento ibrido o meglio dello Smart Learning in questa serie di MOOC.